cari figli piegate le vostre ginocchia in preghiera per la chiesa del mio gesù la benedizione data non può essere ritirata quello che dico ora non lo potete comprendere ma state attenti camminate per un futuro di grande confusione spirituale soffro per quello che viene per voi vi chiedo di essere fedeli a mio figlio gesù non vi allontanate dalla verità qualunque cosa accada non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi siate umili e miti di cuore perché solamente così potrete comprendere la mia presenza in mezzo a voi abbiate fiducia fede e speranza dopo tutta la tribolazione la vittoria di dio verrà per i giusti cercate forza nella preghiera e nell'eucaristia avanti senza paura questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della santissima trinità grazie per avermi permesso di riunirvi qui una volta ancora una volta vi benedico nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen rimanete nella pace messaggio di nostra signora a regina della pace trasmesso il 6 luglio 2019 madonna di anguera grazie